Mi chiamo Alberto Lucarelli, sono assessore beni comuni all'acqua pubblica e alla democrazia partecipativa nel Comune di Napoli e sono professore ordinario di diritto pubblico alla Federico II. In particolare il tema di grande attualità è il tema della gestione dei beni comuni. A partire dal lavoro della Commissione Rodotà si è inteso che bisogna andare oltre la contrapposizione pubblico-privato, beni pubblici, beni privati, ma occorre lavorare per la costruzione di una nuova categoria che sono i beni comuni. Al di là del titolo proprietario, ciò che è importante è che sono beni di appartenenza collettiva e che devono essere tesi a soddisfare diritti fondamentali, ciò che rileva per i beni comuni, quindi non è il titolo di proprietà ma è la loro funzione, cioè quella di andare a soddisfare fasce di utilità. Come paradigma generale dei beni comuni potrei parlare ovviamente dell'acqua. Al di là della definizione della categoria si pone il problema della gestione. La gestione dei beni comuni non può prescindere dalla democrazia partecipativa, non può prescindere da una gestione pubblica partecipata, cioè non orientata al commercio, estranea alle logiche del mercato e del profitto, ma nello stesso tempo deve immaginare il coinvolgimento dei cittadini. Per evitare la riproposizione di vecchie logiche statalistiche o pubblicistiche occorre il coinvolgimento dei cittadini, della cittadinanza attiva come soggetti in grado di controllare, proporre ma anche gestire. Il primo e il momento unico comune che ha attuato la volontà referendaria il 12 e il 13 giugno del 2011, quando 27 milioni di cittadini si sono espressi contro la privatizzazione dell'acqua e dei beni comuni. Il Comune di Napoli è stato il primo a trasformare il soggetto gestore società per azione in soggetto di diritto pubblico, ABC Napoli, Acqua Bene Comune Napoli, è l'azienda speciale che gestisce l'acqua a Napoli e la gestisce attraverso metodi partecipativi, tant'è che nel Consiglio di amministrazione vi sono i cittadini, vi sono i rappresentanti delle associazioni ambientaliste che hanno lo stesso potere dei tecnici, cioè di quelli nominati direttamente dal sindaco. In più c'è da dire che è previsto anche un comitato di sorveglianza dove anche vi sono rappresentanti dei cittadini, degli utenti, delle associazioni ambientaliste e vi sono anche i rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. In sostanza è il primo esperimento di una governance partecipata con il convergimento dei cittadini per quanto riguarda la gestione dei beni comuni.